il 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 vabbè dai un pezzettino devi dire tu ti sei buttato tutto a destra perché sei sceso dalla moto il momento che ti sei buttato a destra sei sceso ma è di su eh vabbè ragazzi ce la fai? uno due ti sei buttato a destra basta eh vabbè dai la prossima la facciamo adesso per non ma non ma ma c'è mi si è impuntato eh ma che vedi cosa faccio? eh l'ho visto ma guarda guarda non sei puntata guarda non ho neanche toccato il freno davanti giuro guarda vedi non c'è zampini vero bene non mi ha ripreso mi sono ripreso io mi sono ripreso da solo filmato filmato ha lasciato andare proprio grande ste vuoi una mano tirava giu aspetta lasciarvi che si riposa aiuto ciao a a a a a a a a a troppo indietro col puro no 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 io ho aspettato un attimo di sarà andato l'ho già bello lanciato hai visto ero già apposta ero già su questa è la famosa doppio gradino lì sì è quello che mi sono ucciso anch'io mi sembra di sì vuoi sai vai